Siamo particolarmente lieti di essere media partner come osservatorio socialis di questa iniziativa di Città dell'Arte. Crediamo sia un'iniziativa molto importante perché promuove i concetti di responsabilità, i concetti di sostenibilità e dà un valore aggiunto, cioè il fatto di riunire vari soggetti che operano nella società civile intorno a un tavolo per promuovere, produrre, riflettere e portare poi all'attenzione delle istituzioni e non solo i risultati delle loro riflessioni credo che sia una cosa molto importante. Abbiamo capito oggi che c'è il progetto di costruire e redigere una carta della responsabilità che trovo un'idea fantastica, interessante, molto molto interessante. Quindi speriamo che sabato, alla fine dei lavori, riusciamo a gioire di quello che sarà il risultato.